La paratissima di Azzolino e il gol dell'Aquila, vantaggio dell'Aquila! Solo due giorni, poi si saprà se l'Aquila Calcio giocherà in Lega Pro anche il prossimo anno. I tifosi sono in pieno fermento per la partitissima spareggio di sabato pomeriggio a Rimini. Con il passare delle ore il tifo rosso-blu si sta rendendo conto dell'importanza della posta in palio, tanto che in Romagna si preannuncia un esodo di Aquilani. Ad incentivare la trasferta c'è anche la notizia arrivata ieri dal Goss di Rimini che ha concesso l'attivazione dell'1-1 Porto un Amico allo Stadio. Al momento la prevendita che è iniziata ieri mattina si attesta su un centinaio di biglietti venduti, collegando la stima ai due pullman già riempiti. Intanto la squadra di Perrone sta ultimando la preparazione alla trasferta che vale il futuro sportivo dell'Aquila. Nel corso della partitella in famiglia di ieri mattina, giocata nel nuovo stadio di Acquasanta, un centinaio di ultra-aquilani si è sistemato sulle gradinate della Curva Sud per incitare i giocatori durante l'allenamento. È stato anche affisso uno striscione con scritto fino all'ultimo secondo per ribadire il concetto di unione di intenti che si dovrà avere negli ultimi 90 minuti di questa allogorante stagione. Sul fronte formazione ancora brutte notizie sul centrale difensivo Emanuele Pesoli che non riuscirà a recuperare dall'infortunio alla caviglia. Ha invece recuperato dall'attacco influenzale Simone Piva che sabato dovrebbe essere confermato nel trio difensivo con Maccarrone e Cosentini. Il condizionale è d'obbligo perché l'allenatore aquilano sta pensando anche al giovane Bruno al suo posto. Nella seduta di lavoro di ieri si è messo in evidenza anche il giovane attaccante della Berretti Mamadou Fall, classe 1997, ormai da tre settimane aggregato alla prima squadra. Il tecnico Perrone starebbe pensando di utilizzarlo a partita in corso nel caso di necessità. Salgono infine le quotazioni di Andrea Mancini come partner del capitano De Sosa nel reparto d'attacco. Se così fosse partirebbe dalla panchina Raffaele Perna tra i più criticati dal pubblico rosso-blu negli ultimi mesi per la poca efficacia sottoporta.